Stamattina mi ha portato in un'azienda bellissima a farmi vedere una macchina a stampa che era uno spettacolo, una macchina a stampa della Fuji. Racconta un po'. Jet Press si stamperà solo con questa macchina. Ma cosa che fa? Cioè, tu mi hai raccontato... È una nuova macchina a jetto d'inchiostro che lavora con due piccolitri, quindi stiamo parlando di nanotecnologia. Adatta variabile, velocissima, qualitativamente ineccepibile e ineguagliabile. Cioè, ma tu mi hai fatto vedere che si governava dall'ufficio 1, facendo tutta la progettazione dei lavori, Poi andavano in un computer un piccio 2, ma non è obbligatorio per mettere, per sé fare un attrezzaggio, un set up, unire tutti i lavori con la stessa carta e poi usciva fuori la stampa finita. Esatto, diciamo che oggi le tecnologie stanno sempre di più diventando immediate e quindi il futuro è quello dell'immediatezza e questa macchina è una macchina immediata. Si ha il file, si preme un pulsante e chiunque può stampare, non è più una... Aspettate, lui non è uno qualsiasi, lui è Enrico Camporese. Cercate su Google Camporese. E così scoprite chi è, ce ne mi sta presentando uno qualsiasi. Ok. La pubblicità qua è a pagamento. Ma non è vero. E se trovo uno bravo, io ve lo presento. Comunque, per qualsiasi necessità, Camporese Macchine Grafiche è qua. Revisioniamo macchine offset e vendiamo tecnologia digitale. Ciao a tutti. Che non è il futuro, ma il presente. Ciao. Ciao.